Ehi, aspetta un momento prima di sghignazzare. La chiesa è stata una tua idea. Sei stato tu a dirmi che Gesù odia il sesso. Tu devi essere pazzo. Gesù vuole che donne si mattengano pure, non uomini. Tu credi che lui sia morto perché uomini non facessero sesso? Questa è la cosa più stupida che abbia mai sentito. Ehi, gente, sono Gesù. Morirò tra trocci sofferenze così nessuno di voi potrà mai scopare. Sì, e io pregavo uno come lui.